Musica De Luca Stravince, priorità al lavoro, il governatore è sul classa, gli avversari e conquista il bis in regione, il presidente detta l'agenda di governo e ribadisce attenzione ai temi dell'occupazione, delusi Caldoro e Cerambino che preannunciano posizione dura. Le richieste dei cittadini ora risposte concrete, lavoro, giovani, sanità ma anche scuole e infrastrutture, questi per gli elettori campani, ai microfoni di 8 Channel, i temi ai quali il nuovo governo deve prestare attenzione. PD e Italia Viva, Bumi in Irpinia, il Partito Democratico, prima forza in provincia di Avellino, espload Italia Viva e lista davvero, Enzo Alai e Maurizio Petracca, i candidati più votati. Buona affermazione anche del grande escluso del PD, Livio Petitto, che spera in un seggio. La rivincita di Mastella traina il governatore, noi campania, la neoformazione del sindaco di Benevento, primo partito in città, Luigi Abate eletto in consiglio, rimettiamo il sannio al centro dell'azione regionale, il PD invece è il primo partito della provincia. Nel feudo di Salerno vince la continuità, una balanga di voti nella città del governatore, confermati fedelissimi di De Luca, primo per numero di preferenze, l'uscente Franco Picarone, che a 8 Channel dice campania dura, ora continuiamo il lavoro intrapreso. Faida di Secondigliano, arrestato di Lauro Junior, l'omicidio di Ciro Maisto, freddato in milla comunale il 6 agosto 2008, catturati Marco Di Lauro, reggente del clan, e i tre presunti killer del commando, sono considerati i mandanti e gli esecutori materiali dell'agguato. E questi erano i nostri titoli, buon pomeriggio, ben ritrovati con l'informazione del canale 696. E allora, cominciamo dai risultati di queste consultazioni elettorali, Cominciamo dalle regionali, ovviamente De Luca, che travolge tutti, una priorità al lavoro e la battaglia per l'equa distribuzione dei fondi europei, del recovery fund, questo nell'immediato futuro. Il Presidente della Regione, riconfermato con quasi il 70% dei consensi, espugna anche la città di Napoli. Espugnati completamente i suoi avversari, Forza Italia e 5 Stelle, crollano, la Lega non supera il 5%, è stata una vittoria di popolo, ha detto il Governatore. Allora, vediamo questo servizio. La campagna sarà nelle mani di Vincenzo De Luca anche nei prossimi 5 anni. Il Governatore sceriffo ha stravinto, come da pronostico, la bella che lo vedeva opposto per la terza volta in 10 anni al candidato del centrodestra, Stefano Caldoro. Nel 2015 De Luca vinse di misura, oggi sfiora il 70%, mentre il suo rivale di centrodestra non arriva al 18%. Il Governatore ha intercettato i due terzi dei consensi, prosciugando di voti soprattutto il bacino elettorale del centrodestra, dove non sfonda la Lega, ferma al 5%. E lui stesso, in apertura della conferenza stampa della vittoria, lo ha sottolineato. Credo che sia un dovere di onestà intellettuale chiarire che questo dato elettorale della campagna non può essere letto in termini di destra e di sinistra. La mia candidatura è stata sostenuta dal mondo progressista, come è ovvio, ma anche da tante forze moderate, da tante forze anche della destra non ideologica, che si sono riconosciute in un programma di governo. Si sono riconosciute, innanzitutto, nel lavoro di questi anni. Lo sguardo al futuro immediato è ai prossimi cinque anni con la consapevolezza che il Covid non ha affatto allentato la morsa. Anzi, secondo De Luca in Italia si è sottovalutata la portata della pandemia in atto e siamo già nella seconda ondata. Per De Luca ci aspettano mesi di battaglie durissime, con l'arrivo dei soldi europei del Recovery Fund, ma l'obiettivo deve restare il lavoro. Per il futuro abbiamo indicato un programma che ha al centro un solo obiettivo, uno soltanto, il lavoro per i giovani di Napoli e della Campania. Abbiamo l'ambizione di interrompere o almeno frenare l'emorragia di giovani dal sud al nord. In modo particolare per quanto riguarda il Covid io credo che siamo di fronte ad una sottovalutazione drammatica della situazione dell'Italia e che è già diventata necessaria una linea di nuovo rigore e di nuovo controllo anche su comportamenti non responsabili. Con il premio di maggioranza la coalizione potrebbe arrivare fino a 34 seggi nel Consiglio regionale, lasciandone 16 alle opposizioni, 9 al centrodestra e 7 al Movimento 5 Stelle. Tra i banchi della maggioranza sono sicuri di avere seggi il Partito Democratico, De Luca Presidente, Campania Libera, Italia Viva, Fare Democratico Popolari e Noi Campani, mentre tutte le altre liste potranno eleggere consiglieri regionali con la spartizione dei resti. E sentiamo adesso invece le reazioni degli sfidanti da Caldoro a Ciarambino. Sono i grandi delusi dell'appuntamento elettorale travolti dall'onda deduchiana che ha lasciato solo le briciole in termini di consenso. Centrodestra e Movimento 5 Stelle escono nettamente sconfitti dalla contesa per le elezioni regionali. Nella coalizione che ha sostenuto Stefano Caldoro si prepara la resa dei conti. In ballo la leadership della coalizione per dettare l'agenda dei prossimi appuntamenti elettorali. Caldoro alla terza sfida con De Luca preannuncia però opposizione dura a Palazzo Santa Lucia. Si farà nei prossimi giorni anche chiaramente un esame di quello che è il risultato complessivo anche delle liste e di tutta la coalizione. Però io prendo la parte dell'impegno che per quanto ci riguarda continueremo a mettere in campo per la verità della situazione. Quindi continueremo a dire la nostra, la continueremo a dire con forza, con chiarezza, prendendo atto nel risultato. Noi siamo da questo punto di vista, la affrontiamo sempre con serietà e con chiarezza. Quindi non è che evitiamo un giudizio complessivo su quello che è avvenuto, ne diamo una spiegazione e ci rimbocchiamo le maniche. Io per quanto mi riguarda insieme alla pattuglia che sarà eletta in Consiglio regionale faremo un'opposizione dura, decisa, forte, nell'interesse dei cittadini campani, continuando a dire sempre la verità. Ma le 5 Stelle che non hanno raggiunto il 10% nonostante la campagna elettorale contraddistinta dai toni duri contro il governatore. È stata una battaglia difficilissima, falsata fin dal principio dalle condizioni di partenza, il commento a caldo di Valeria Ciarambino. Abbiamo combattuto contro uno che il Covid ha trasformato in una star, Cinghialotti e Lanciafiamme gli sono serviti per vincere. È diventato, la fondo dell'esponente 5 Stelle contro De Luca, il comico più famoso d'Italia. Ma ora anche nel movimento, così come per il centrodestra, si aprirà il tema della leadership. E sentiamo invece che cosa chiedono adesso i cittadini campani che hanno votato De Luca. Lavoro, giovani, sanità, ma anche scuole e infrastrutture. Per i campani sono questi i temi su cui il governatore Vincenzo De Luca dovrà puntare nel corso dei prossimi 5 anni. Vediamo. Sanità, giovani e soprattutto lavoro, ma anche scuole e infrastrutture. All'indomani delle elezioni i cittadini campani non hanno dubbi, dovranno essere questi temi. Su cui il governatore Vincenzo De Luca, riconfermato alla guida di Palazzo Santa Lucia ed il nuovo consiglio regionale, dovranno puntare per il territorio. Sanità e lavoro. La sanità. Il lavoro per i giovani, insomma, ecco lo sviluppo. Il lavoro è l'unica cosa che serve, la cosa più importante. Lavoro e giovani, sicuramente. Sanità, ovviamente, credo che siano le cose fondamentali. Anche nella scuola. Il tema importante è sicuramente il lavoro. Io penso sia anche sociale, per cui si debba, voglio dire, anche svolgere un ruolo fondamentale per i servizi sociali. Creare delle industrie, creare il lavoro. Impedire che i giovani siano costretti ad andare via per trovare lavoro resta dunque una delle priorità per i cittadini della campagna. Partire dalla valorizzazione delle risorse che ci sono qui in campagna e cercare di dare incentivi ai giovani perché possano impegnarsi a restare qui. Il turismo, questa è la base, partire da questo per poi aiutare anche i giovani che sono senza lavoro e non spingere ad andare al nord. Dobbiamo dare il lavoro ai giovani per crescere. Attenzione poi al mondo della scuola, di cui l'appello affinché i ragazzi possano tornare presto in classe. La scuola assolutamente, i bambini devono tornare a scuola. Servono lavoro, la prima cosa. Serve che le scuole siano veramente ristrutturate periodicamente. Andiamo adesso a vedere i dettagli nelle città della provincia per le regionali. De Luca stravince in Irpinia e il Partito Democratico è la prima forza politica in provincia di Avellino. Espload di Italia Viva e della lista Davvero. Enzo Alaia e Maurizio Petracca i candidati più votati. Vediamo. Stravince anche in Irpinia il governatore De Luca dove anzi tocca la più alta percentuale di consenso in campagna con il 75,3%. Il Partito Democratico sbanca come voti di lista 3.000 in più rispetto al 2015, ma Enzo Alaia di Italia Viva a guadagnare il gradino più alto delle preferenze. Il consigliere uscente, espressione del mandamento baianese, sfonde il muro dei 15.000 voti e fa registrare un ottimo risultato anche nel capoluogo con un aumento esponenziale rispetto a cinque anni fa. Grande entusiasmo nel suo comitato elettorale a due passi da Piazza del Popolo. In città comunque il più votato delle 72 sezioni è stato Livio Petitto, il grande escluso del Partito Democratico che con la lista Davvero Partito Animalista spera in un seggio nel parlamentino del centro direzionale e non ha nascosto il suo ottimismo attraverso un post pubblicato su Instagram. Il Partito Democratico consacra a Maurizio Petracca con oltre 14.000 preferenze. Grande ottimismo anche al suo comitato elettorale in Piazza Libertà. Il PD è andato bene, è andato bene ad Avellino, in Irpinia, in Regione Campania. Abbiamo una delle percentuali più alte, quindi sicuramente è un partito che funziona ancora molto bene. L'ex Demitiano ha portato avanti una campagna elettorale molto radicata sul territorio grazie al lavoro dei due ex assessori comunali Nicola Giordano e Modestino Verrengia e dell'attuale consigliere di opposizione Ettore Iacovacci. Del resto si sapeva che tra i Dem qualcuno avrebbe pagato il conto. Rosetta D'Amelio porta a casa più di 10.000 preferenze ma non basteranno per confermarla nel Consiglio regionale. Bene ma non benissimo Carlo Iannasce e De Luca Presidente buono il risultato dell'ex manager dell'ospedale Moscati, Pino Rosato. Nel centro-destra non si salva nessuno. Lega sotto il 5%, Fratelli d'Italia e Forza Italia non arrivano al 4%. Infine il Movimento 5 Stelle raccoglie quasi 13.000 voti con l'ex sindaco Vincenzo Ciampi che risulta il candidato più votato. A Benevento adesso Mastella con il suo Noi Campani traina il governatore De Luca. Il partito dell'ex guardasigilli è primo in città e il candidato Luigi Abate è il più votato. Nel sagno Clemente Mastella con il suo Noi Campani va da traino alla coalizione a sostegno del presidente Vincenzo De Luca che in provincia di Benevento ha totalizzato il 64,64% delle preferenze con 82.800 voti. Si ferma al 24% il centro-destra con il candidato Stefano Caldoro ed un totale di 30.748 voti. Solo al 9.23 il Movimento 5 Stelle con Valeria Ciarambino che totalizza 11.820 preferenze. E se Clemente Mastella conquista il podio in città con 3.828 voti ed il 16,62% il Partito Democratico torna ad essere il primo partito nel sagno con il 14,30%. Quasi 10.000 preferenze incoronano Luigi Abate, candidato della lista Noi Campani di Mastella, come il più votato nella circoscrizione di Benevento. Il medico beneventano, ex presidente della Gesesa, ha incassato 9.903 voti. Credo che mettere al centro il territorio è la nostra politica principale. Gli altri, che ci ha preceduto, non è che ha particolarmente brillato per quanto riguarda la difesa e gli interessi del territorio. Noi invece ci andiamo preparati con questo gruppo di giovani professionisti, soprattutto classe dirigente, che ha la presunzione di poter raccontare e fare il territorio di Benevento una provincia particolarmente virtuosa. Potrebbe arrivare la riconferma a Palazzo Santa Lucia anche per il consigliere regionale uscente dei Democrat, Mino Mortaruolo, con 6.324 preferenze. Tra i più votati anche Domenico Matera, sindaco di Bucciano, in campo per Fratelli d'Italia, che ha totalizzato 6.172 voti. Una valanga di voti a Salerno e provincia per il neo rieletto governatore De Luca. Travolti tutti gli avversari restano al loro posto a Palazzo Santa Lucia, anche i fedelissimi del governatore primo nel salernitano, con 18.000 voti. Franco Picarone per la lista del Partito Democratico. Vediamo. Salerno si riconferma il feudo del neo rieletto governatore Vincenzo De Luca, un plebiscito di voti che in città superano il 75% delle preferenze. La festa è così iniziata già dopo i primi exit poll, vista la netta forbice con gli avversari. A riconfermare il proprio posto a Palazzo Santa Lucia è anche uno dei fedelissimi del presidente, Franco Picarone, il candidato del Partito Democratico, primo nella provincia, con più di 18.000 preferenze, che oltre alla soddisfazione per il risultato ottenuto, ha parlato di una campagna elettorale difficile. L'elettorio è importantissima, un risultato del presidente De Luca straordinario, che ci mette nella condizione di proseguire il lavoro, come avevamo chiesto in campagna elettorale, in condizioni di forza sufficienti per mandare avanti tutti i progetti che riguardano, soprattutto, come ha detto il presidente, il lavoro e il sviluppo. È stata forse la campagna elettorale più faticosa degli ultimi anni, non c'era niente di scontato. Ottimo risultato tra i primi tre e più votati a Salerno, anche per un altro braccio destro del governatore, il rieletto consigliere regionale Luca Cascone, candidato con la lista De Luca presidente. È veramente un successo strepitoso, che rafforza ancora di più l'immagine, la concretezza del presidente De Luca, che dovrà mettersi sulle spalle della regione Campania per i prossimi cinque anni e continuare a raccogliere risultati importanti. Ovviamente abbiamo raggiunto degli obiettivi, molto altri dobbiamo raggiungere, quindi credo che siamo sulla strada giusta. E torniamo in Irpinia, in uno dei comuni al voto, Ariano, Irpino, con oltre 15 mila abitanti, dove si profila il ballottaggio. Si è votato per le amministrative, molto alta la percentuale di affluenza alle urne, ma per come sta andando lo spoglio dobbiamo sentire il nostro corrispondente. Gianni Vigoroso. Gianni, sei in linea? Sì, sì, buon pomeriggio a te e a tutti i telespettatori. È una forte grandinata, scandita dall'Ampiettuoni in questa fase elettorale, qui ad Ariano Irpino, a portare il passo dei due candidati, Franza e la Carità, che sono dall'inizio entrambi, i primi due a giocarsi questa partita. Franza, con un netto vantaggio, 4.556 voti, pari al 39.4%, e la Carità, 3.324, 28.8%. Poi segue Luparella, con 2.567 voti, la vita 1.164. Sono state scudinate, Rossella, 11.789 schede, su un totale di 14.891, quindi appare sempre più certo, a questo punto, il ballottaggio tra Franza e la Carità. Schede valide 11.619, hanno votato 14.891, su 20.862, aventi diritto, quindi una percentuale del 71,38%. dicevo all'inizio, una forte grandinata, sta caratterizzando questa fase di spoglio, qui a Dariano, i due candidati sono a poca distanza, con le loro sedi l'una dall'altra, Franza in Piazza Duomo, e Marco la Carità, lungo corso Europa, e stanno assistendo personalmente, alle operazioni di spoglio. la città sta vivendo con attenzione, con particolare attenzione, questo momento delicato, molto atteso per la verità, e bisogna anche dire che ci si aspettava, questo risultato, anche secondo gli esperti, e anche secondo soprattutto i due candidati, che si aspettavano questo ballottaggio. Bene, grazie, grazie a Gianni Vigoroso, e dunque attendiamo, di sapere come va a finire, è chiaro ormai, che si va verso il ballottaggio, tra due settimane, anche il comune di Ariano Irpino, tornerà alle urne. Adesso lasciamo, la parte elettorale, andiamo alla cronaca, al rischio faida, è stato scoperto un arsenale, ed è scattato, il sequestro di armi a Ponticelli, il comando provinciale, della Guardia di Finanza di Napoli, ha sottoposto a sequestro, in uno stabile dell'8-0, una nota piazza di spaccio, del quartiere di Ponticelli, tre pistole, 48 cartucce, occultate all'interno di un intercapedine. In particolare, i baschi verdi, del gruppo pronto impiego, mentre percorrevano via Cleopatra, hanno notato un gruppo di persone, che alla vista delle patuglie, si dileguava in direzioni diverse. L'attenzione dei finanzieri, si è concentrata su due di loro, che accedevano frettolosamente, all'interno del vano scala, di uno stabile, situato nelle vicinanze, facendo perdere le loro tracce. Sono in corso accertamenti, per individuare i fuggitivi, e verificare se le armi, siano state usate, in fatti di sangue, e intimidazioni. Chiusa l'indagine, sull'omicidio di Ciro Maisto, vittima di un'esecuzione di Camorra, nel 2008, a Secondigliano, arrestati, mandante ed esecutori. Sentiamo. Venne ucciso 12 anni fa, in un'epurazione interna, al clan di Lauro, durante la seconda faida di Scampia. Ora, le indagini dei carabinieri, hanno portato il GIP di Napoli, a firmare quattro misure cautelari, nei confronti di mandanti, ed esecutori di quel delitto. L'indagine, riguarda l'omicidio di Ciro Maisto, l'agguato avvenne il 6 agosto 2008, nella villa comunale di Secondigliano. La seconda faida di Scampia, nel cartello degli scissionisti, c'era stata una scissione interna, si era formato il gruppo dei girati, quella della Vanella Grassi, che di lì a poco si sarebbero alleati con i Di Lauro, per spodestare gli amato pagano. In quel periodo, il clan di Lauro, era guidato da Marco Di Lauro, già latitante, poi venne arrestato nel marzo del 2019, dopo 14 anni di ricerche. L'omicidio di Maisto si colloca in questo periodo, anche se si è scoperto successivamente, che ad ucciderlo erano stati killer del suo stesso clan. Il 28enne fu attirato in trappola, in prossimità del rione dei Fiori, il Terzo Mondo, quartier generale dei Di Lauro, è ucciso con diversi colpi di pistola, l'ultimo dei quali alla testa. Gli arresti di oggi sono stati eseguiti dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli, in esecuzione di un'ordinanza cautelare in carcere. I destinatari sono Marco Di Lauro, 40 anni, considerato il mandante dell'agguato, Pasquale Spinelli, 44, Nunzio Talotti, 41, e Gennaro Vizzaccaro, 44 anni. Stop agli arresti domiciliari del boss Pasquale Zagaria da pochi minuti dopo le 8 è di nuovo in carcere, questa volta nel penitenziario milanese di Opera. Il suo caso aveva aperto lo scandalo delle scarcerazioni di importanti mafiosi, indranghettisti e camorristi che per via dell'emergenza Covid avevano ottenuto gli arresti domiciliari a seguito di una circolare autorizzata dall'ex direttore Basentini e diretta ai giudici di sorveglianza. La sua scarcerazione era stata decisa dal giudice di Sassari, Riccardo De Vito, che aveva giudicato grave la sua malattia, una patologia cancerogena, dopo uno scontro con la direzione delle carceri che lo stesso De Vito aveva accusato di non trovare una situazione carceraria alternativa per poterlo curare adeguatamente. La detenzione domiciliare di Zagaria, iniziata il 22 aprile, era scaduta ieri dopo una seconda riconferma, nonostante il decreto legge di Bonafede che ordinava di riconsiderare la situazione sanitaria di tutti i mafiosi scarcerati per il Covid. E allora, veniamo all'emergenza coronavirus. Altri 243 casi in Campania, con un morto e 350 ricoveri negli ospedali della regione. Un bollettino decisamente preoccupante è quello delle ultime 24 ore, che si basa su un dato anche basso di tamponi effettuati. E la Campania è l'unica regione che nelle ultime ore ha superato i 200 casi. Vediamo. Coronavirus impennata di nuovi positivi in Campania, un vero e proprio record, quello registrato nelle ultime ore con altri 243 nuovi casi. 350 le persone ricoverate ieri negli ospedali di tutta la regione, 22 quelle sistemate in terapia intensiva e un morto. Nell'ospedale simbolo della lotta al Covid, il Cotugno, 37 sono i pazienti sistemati in degenza ordinaria, 16 in subintensiva e 8 in rianimazione. Intanto si registra un nuovo decesso che si aggiunge alle 456 vittime che si contano in Campania dall'inizio della pandemia. E la Campania è anche la prima regione per numero di contagi nelle ultime 24 ore. Sono oltre 200 ed è seguita dal Lazio con 198 nuovi casi. Intanto in Irpinia sono 12 nuovi contagi che si registrano in 24 ore con la situazione di Avella e di Sperone, che conferma che il cluster nel mandamento non si spegne e i contagi non si arrestano. In provincia di Avellino i casi sfiorano le 200 unità da inizio luglio. Nuovo caso di positività al Covid nel comune di Sant'Angelo a Cupolo. Ad annunciarlo sui social è il sindaco Fabrizio D'Orta e sono 91 i casi nel Sagno. Il numero più alto di contagi intanto è a Benevento con 30 positivi e restano 13 i casi a Montesarchio. Nel Salernitano sono stati rilevati sei positivi di cui quattro a Sarno, uno a Vietri e uno a Scafati. In tutto il Salernitano supera i 370 casi. Sorvegliata speciale resta nel Casertano, terra di lavoro. Nel capoluogo 70 casi, ma preoccupano i focolai di Casal di Principe, 49 contagi, Castel Volturno 54 e Marcianise 35. A Benevento una vigilessa è risultata positiva al coronavirus e per questo sono scattate le procedure di sanificazione e i tamponi per due agenti che avevano avuto un contatto con la donna. Intanto sale di una unità e il numero dei contagiati nel Sannio. Vediamo. La tregua sui contagi nel Sannio è stata interrotta in mattinata con l'annuncio del sindaco di Sant'Angelo a Cupolo, Fabrizio D'Orta, sulla positività di una donna del centro del Medio Calore. Sale a 91 quindi il numero dei contagiati in provincia di Benevento. 85 sono in quarantena domiciliare, 4 ricoverati nei reparti Covid dell'ospedale Rummo e uno ricoverato fuori provincia. A Benevento, nelle ultime ore, però scoppiato il caso della Polizia Municipale dopo la positività di un agente che però era già in congedo familiare. La vigilessa è in isolamento al pari della famiglia mentre all'interno del comando di via Santa Colomba sono comunque scattati i tamponi per due vigili e sanificazioni. Il caso non esiste perché questa vigilessa è da mesi che è in maternità. È venuta a lavorare solo il giorno 11 settembre per tre ore. D'accordo con la ASL abbiamo semplicemente sanificato ai locali fatto fare il tampone ai due colleghi che avevano avuto maggior contatto e i tamponi sono risultati negativi. Purtroppo è tutto all'interno della famiglia il problema e alcuni di loro sono stati messi in quarantena fiduciari. Quindi è un caso che effettivamente non ha motivo di esistere è una tempesta in un bircher d'acqua. Si attendono i risultati definitivi dello screening effettuato in carcere agli agenti della polizia penitenziaria e ai detenuti che ad oggi ha evidenziato sei positivi. La scuola a Benevento si tornerà tra i banchi il primo ottobre. Il sindaco Mastella ha emanato un'ordinanza per il differimento delle attività didattiche necessario qualche giorno in più per garantire l'espletamento in sicurezza sia per il personale che per gli alunni. Vediamo. Di giorno in giorno si allunga sempre più l'elenco dei comuni salernetani che stanno posticipando l'avvio dell'anno scolastico inizialmente previsto per la giornata di giovedì nelle scorse ore. Il sindaco di Altavilla Silentina Antonio Marra ha firmato un'ordinanza con la quale ha procrastinato l'inizio delle attività didattiche al 5 ottobre. La decisione è legata alla presenza di alcuni casi positivi riscontrati sul territorio comunale ma in queste ore tanti altri sindaci stanno predisponendo gli atti per posticipare la prima campanella. Anno c'era superiore si tornerà tra i banchi il 28 settembre in modo da consentire la corretta esecuzione di tutte le attività di sanificazione dopo la tornata elettorale ha spiegato il primo cittadino Giovanni Maria Cuofano. Stessa decisione è stata presa anche da tanti altri sindaci della provincia tra cui quelli di Nocera Inferiore Sarno Mercato San Severino Fisciano Roccapiemonte e Agropoli. Saremo pronti il 28 ad accogliere tutta la popolazione scolastica in modo tale da poter cominciare le scuole in massima serenità. Eravamo pronti naturalmente a partire abbiamo fatto uno sforzo di acquisto di banchetti 1800 banchetti li abbiamo acquistati direttamente li abbiamo cozzati ormai già verso la fine del mese di agosto però in questi casi bisogna dare la massima attenzione quindi abbiamo voluto prenderci qualche ora in più per sistemare tutto nella maniera più giusta e corretta. È tutto per questa edizione in regia Michele Urciuolo grazie per averci seguito arrivederci aatchi aatchi Grazie a tutti. Grazie a tutti.